Gita al faro di Virginia Woolf, parte seconda. Passa il tempo. Capitolo primo. Già bisogna rimettersi a quel che farà il tempo, disse Banks rientrando dal piazzale. Tanto buio che non ci si vede quasi più, disse Andrea tornando dalla spiaggia. Si fa fatica a distinguere la terra dal mare, disse Bru. Dobbiamo lasciare acceso quel lume, domandò Lili mentre gli altri si levavano i mantelli. No, se siamo tutti rincasati, rispose Bru. E soggiunse. Andrea, fammi il piacere di spegnere il lume nell'ingresso. Ad uno ad uno i lumi furono tutti spenti. Ultimo quello del signor Carmichel, il quale soleva rileggere Virgilio prima di addormentarsi e però tenne la candela accesa un po' più a lungo degli altri. Capitolo secondo. Spenti i lumi, tramontata la luna, una pioggia sottile messasi a tambulerare sul tetto cominciò un diluvio di tenebra. Pareva che nulla potesse salvarsi dall'inondazione, dal profluvio della tenebra, che, insinuandosi per le toppe e le fessure, scivolando tra le persiane, penetrava nelle camere, inghiottendo qua una brocca e un catino, là un vaso di dalie rosse e gialle, o gli spigoli affilati e il solido blocco di un cassettone. Di soltì gli arredi e le persone rimaste senza nemmeno quel tanto di corporeo, di spirituale per cui si può dire è lui o è lei. A volte una mano si sollevava come per afferrare qualcosa, per difendersi da qualcosa, oppure tal'uno gemeva, tal'uno rideva forte, come celiando col nulla. Nel salotto, nella sala da pranzo, sulla scala regnava un'alta quiete, se non che, attraverso i cardini ruggiosi e le imposte marcite dalla salsedine, certi aliti, sbandati dal nucleo del vento, si insinuarono per le sagomature, avventurandosi all'interno. Penetrati in salotto, presero a giocherellare coi brindelli del parato di carta, domandandosi se resterebbero ancora un pezzo ciondoloni o quando si staccherebbero. Poi, sfiorando levemente le pareti, si spinsero oltre assortiti, per chiedere alle rose e gialle e rosse del parato se sarebbero appassite, per domandare alle lettere stracciate del cestino, ai fiori, ai libri pronti a schiuder loro tutte le pagine, se fossero alleati o nemici e quanto credevano di poter durare. guidati per caso dal bagliore, che, giraggiando da qualche astro disvelato o da qualche nave rabbonda, o magari dal faro, imprimeva la sua orma pallida su uno scalino o una stuoia, gli aliti lievi, salite le scale, fiutarono gli usci delle camere, ma colà dovettero sostare. Ogni altra cosa poteva perire, disfarsi. Colà vera alcun chedo inviolabile. Colà si poteva dire agli scivoloni bagliori, agli aliti esitanti che si curvavano, spiravano sui teletti. Qui non potete nulla alterarne e distruggere. E però, languidi spettrali, come dotati di piume, dita e di leve consistenza piumosa, quei bagliori, quegli aliti, diedero appena un'occhiata alle palpebre chiuse, alle dita, ai nervi, allanguidamente raccolte, le tuniche disparvero. Fiutando, sfiorando, giucero alla finestra delle scale, alle camere dei domestici, ai bauli delle soffitte. Poi ridiscesi, sbianchirono le mele della fruttiera, brancicarono i petali delle rose, esaminarono il dipinto sul cavalletto, spazzarono la stuoia e sparsero un po' di sabbia sul piantino. Ma alla fine tutti gli aliti delusi sostarono insieme, s'adunarono, sospirarono in coro. In coro emisero una raffica di gemiti, cui una porta di cucina rispose spalancandosi e poi richiudendosi rumorosamente, senza aver fatto entrare nessuno. A questo punto il signor Carmichael, che leggeva Virgilio, spense con un soffio la candela. Era mezzanotte passata. Capitolo terzo. Ma insomma, che cos'è una notte? Un breve tratto, specialmente quando la tenebra si rischiara così presto. Così presto so decantare un uccello o gracidare una cornacchia, e si vede balenare nel cavo dell'onda un verde scialbo come di foglia appena schiusa. Però le notti seguono alle notti. L'inverno ne tene il serbo un pacco, da cui le tira fuori ad una duna, con molto regolare delle dita instancabili. Si allungano, si infoscano. Alcune reggono nell'alto astri lucenti, dischi di splendore. Gli alberi autunnali, per quanto tartassati, assumono il bagliore dei laceri vessilli sbaglianti nella fresca oscurità delle cripte, dove lettere d'oro narrano, su pagine marmore, di morti eroiche e dossa calcinate e riarse nelle remote sabbie dell'India. Gli alberi autunnali si schiarano al beondolume di luna, al lume della luna canicolare, al lume che matura il vigore dei metitori, ammorbidisce le stoppie e reca all'arriva la turchina carezza dell'onda. Sembra a volte che la bontà divina, impiettositasi dall'umana penitenza e dal travaglio che questa comporta, schiuda le cortine, mostrando dietro di esse nette e distinte la ruperetta, l'onda ricadente, la barca oscillante, tutte cose che se non fossimo degni potremmo contemplare per sempre. Maime, ben presto la bontà divina tirando il cordone richiude le cortine, è cruciata, copre i suoi tesori con uno scroscio di grandine. Li frantuma, li sconvolge, così che a noi sembra impossibile di dovervi ritrovare un ordine, di riuscire a ricomporne i rottami in un tutto compiuto o di poter leggere nei loro sparsi frammenti la chiara parola del vero. Perché la nostra penitenza merita appena una visione fugace e il nostro travaglio soltanto una tregua. le notti so percorse dall'ora da nebbi e di devastatori. Gli alberi si incurvano, si contorcono, le foglie si involano alla rinfusa, formando uno spesso intonaco sul prato, aggrumandosi non nei rigagnoli, soffocando le grondaie, disseminando i fangosi sentieri. Anche il mare si agita e si frange. E se il dormiente, sognando di poter trovare sulla spiaggia una risposta ai propri dubbi, una compagnia per la propria solitudine, tuttavia le coperte per andare a diporto sull'ido, qui vi non trova sembianza alcuna di divina bontà. a ristabilire per lui la notturna quiete e a rispecchiare nel mondo l'infinito dell'anima. La mano che gli stringe si dissolve nella sua. La voce che gli ascolta urula nel suo orecchio. sembrerebbe quasi inutile, in tale sconvolgimento, porre alla notte quelle domande che tentano il dormiente a uscire dal letto per trovare ad esse una risposta. Il signor Reims, incespicando per un corridoio, tese le braccia in un mattino scuro. Ma siccome la signora Reims era morta quasi improvvisamente la notte avanti, egli tese le braccia in darno. Queste rimassero vuote. Capitolo quarto. Nella casa deserta, con gli usci chiusi a chiave e le casse arrotolate. Quegli aliti dispersi, avanguardie di grandi eserciti, irruppero dentro, sfregarono gli assiti spogli, rosicchiarono, spazzarono, non incontrando, nelle camere o nei salotti, altra resistenza se non quella delle tappezzerie lacere, degli assiti screppolati, delle nude gambe dei tavolini, delle casseruole e delle porcellane porverose, appannate e incrinate. Soltanto gli indumenti lasciati qua e là, un paio di scarpe, un berretto da cacciatore, qualche esottana e qualche giacca appesa negli armadi, sembravano impronte umane. Testimoniavano che le vuote stanze avevano già ospitato dei viventi e visto mani alle prese con ganci e bottoni, che lo specchio aveva già contenuto un volto, anzi un mondo cavo in cui si svolgeva una persona. Ballenava una mano, s'apriva una porta, si vedevano bambini balzati dentro a ruzzare e poi uscire fuori. Di giorno in giorno la luce proiettava sul muro opposto allo specchio la sua immagine, chiara qual di fiore nell'acqua. Nulla offuscava quello stagno di luce, se non quando le ombre degli alberi, volteggiando questi nel vento, facevano rapidi inchini sul muro. O quando un uccello, passando a volo, faceva tremare attraverso il pentito della camera una macchia vellutata. Per tale modo la beltà e la quiete regnavano congiunte e modellavano d'accordo la forma stessa della beltà. Una forma da cui si era distaccata la vita, erma come stagno apparso all'annottare dal finestrino di un treno in corsa, assai lungi, e in un baleno sì da non restare seppur visto violato nella sua solitudine. La beltà e la quiete si dà man mano nella camera e tra le brocche nascoste dalle salviette, le sedie coperte dalle fodere, l'intrusione del vento e il ronfare sommesso delle vischiose brezze marine, fruscianti, stormenti, interroganti con insistenza monotona. Potrete alterarvi? Perire? Non turbavano per nulla quella pace, quella apatia, quell'aria di casta integrità cui nemmeno occorreva rispondere. Noi siamo immutabili. Sembrava che nulla avrebbe mai alterato con l'immagine di purità, o scomposto il fluente ammanto del silenzio che nelle stanze vuote impigliava nelle sue trame di settimana in settimana stridi d'uccelli, sibili di navi, bronzanti mormori campestri, latrati di cani, voci umane, e nettuttiva il suono nella quiete che fasciava la casa. Se non che una volta un esse si sconnesse sul pianerottolo, e una volta nel cuore della notte, con un rombo, uno scoppio come di masso, che dopo secoli di sottomissione si schianti dal monte precipiti rovinoso a valle, una piega dello scialle si sciolse e dondolò. Ma calò di bel nuovo la quiete, tremò l'ombra, e la luce si inflesse in uno sdlancio d'amore verso la propria immagine proiettata contro il muro della camera. Quando ecco la signora McNabb, lacerando i veli del silenzio con mani tratte fuori dalla conca del bucato, calpestandoli con i piedi che avevano fatto crocchiare la ghiaia della spiaggia, entrò per aprire le finestre e spolverare le stanze. Capitolo quinto Mentre arrancava, perché i suoi fianchi dondolavano come ghiglie in mare, mentre sbirciava, perché i suoi occhi, invece di posarsi direttamente sulle cose, vi gettavano uno sguardo obliquo che deprecava lo scherno e il disegno altrui. Era corta di cervello e lo sapeva. Mentre s'aggrappava la ringhiera per rimorchiare se stessa su per le scale, urlava a distanza in stanza, ella cantava. Strofinando il vetro del lungo specchio e adocchiandovi di traverso la propria figura dondolante, emetteva dalle labbra un motivo. Un motivo che vent'anni prima aveva forse risuonato gaiemente su un palcoscenico o in una sala da ballo, ma che ormai, cantarellato così da una vecchia cassiera senza denti e con la cuffia, perdeva ogni significato. diventava la voce stessa della stoltizia, della ridicolaggine e della monotonia. Calpeste e sempre risorgenti. Tre sbirciava quella, spolverando e strofinando, ella sembrava ripetere che la vita altro non era se non tristezza e noia. Alzarsi e tornare al letto, tirar fuori oggetti e riporli. Non era comodo né piacevole il mondo che ella conosceva da circa 70 anni. Ella era curva per la stanchezza. Per quanto ancora sarebbe andata avanti col mondo? Si chiedeva, trascinandosi con le ginocchia scricchiolanti fin sotto i letti per rispolverare il piantito. Ma ecco, si raddrizzava tentennoni e si faceva animo. E da capo, con suo sguardo sbieco che scivolava di traverso anche sull'immagine di lei e delle sue pene, sbirciava, tonita nello specchio. E poi, con un sorriso vago, riprendeva il suo consueto beccheggio, il consueto dondolio, tirando su le stuoie, rimettendo a posto le porcellane, guardando di sfuggita nello specchio, quasi che, insomma, non le mancasse qualche conforto, quasi che alle sue lamentazioni si intricciasse un'incorrigibile speranza. E la doveva aver avuto dei miraggi di felicità, stando alla conca del bucato, oppure accanto ai suoi figli. Mentre beveva all'osteria o rimescolava Gianfrusaglie nei suoi cassetti, vi doveva essere stato nel suo buio qualche spiraglio, nel profondo della sua tenebra, qualche varco da cui era filtrata a tanta luce da farle increspare la faccia, a un sorriso davanti allo specchio e da permetterle di continuare il suo lavoro cantarellando. Frattanto i mistici visionari, che passeggiando sul lido, agitando l'acqua di una pozza, guardando una pietra, si chiedevano, chi son io? Che è questo? ricevevano ad un tratto una risposta e, senza capirla, ne erano riscaldati nel gelo e consolati nella solitudine. Ma la signora McNabb continuava a bere e a spettegolare come prima. Capitolo VI La primavera, senza una foglia da scuotere, nuda e lucente come vergine ritrosa nella sua castità, sdegnosa nella sua purezza, si stendeva sui campi attenta, vigile e indifferente a quanto facesse o pensasse chi la contemplava. Prurems, dando il braccio a suo padre, si sposò in quel mese di maggio. Poteva darsi il matrimonio migliore, dicevano tutti. E lei quant'era bella, soggiungevano. Al sopravverire dell'estate, quando le sere cominciarono ad allungarsi, coloro che meditavano e speravano passeggiando sul lido, agitando l'acqua nelle pozze, ebbero visioni bizzarre. Di carni trasformate in atomi dispersi dal vento, di stelle balenanti nel loro cuore, di scogli, di mari, di nuvoli e cieli apposta assembrati per ricomporre all'esterno gli sparsi elementi della visione interiore. Quegli specchi che sono gli spiriti umani, in quei laghi d'acque tremule su cui di continuo si formano l'ombre di mulinanti nubi, i sogni persistevano. Ed era impossibile resistere alla strana persuasione che gabbiani fiori, uomini e donne, e perfino il suolo calcinato, sembravano proclamare. La persuasione che il bene trionfi, che la felicità prevalga, che l'ordine predomini. Era anche impossibile resistere allo stimolo insolito di andare alla ricerca di un bene assoluto, di un'intensità cristallina, remota dai piaceri cogniti e dalle virtù familiari, di qualcosa ad estraneo al processo della vita domestica, di unico, di tenace, di splendido. Pari a diamante gelato nelle sabbie e datore di sicurezza. Se non che, docile e mansueta, la primavera, per cui ronzano le api e danzano i moscerini, si raffolse nel suo mantello, si velò gli occhi, abbassò il capo, e tra vaganti ombre e scrosci di pioggia sembrò accorarsi per le umane sventure. Bru Rems morì nell'aveniente estate, conseguenza di un parto difficile. Una vera tragedia, dissero tutti, e dissero pure che nessuno più di lei avrebbe meritato d'essere felice. Nel bollor dell'estate il vento mandò ancora le sue spie nella casa, le mosche ripresero a volteggiare nelle camere soleggiate. Durante la notte le erbe cresciute sui davanzali si misero a bussare metodicamente i vetri delle finestre. Al calare della sera il fascio di luce del faro, che nel buio si posava con tanta autorità sul tappeto, delineandole il disegno, strisciava soave, come in atto di carezza. Attraverso il crepuscolo primaverile infuso di plenilunio, saltardava di soppiatto a guardare, e poi tornava ancora con fedele amore. Ma una volta, proprio nell'anguore dell'amorosa carezza, mentre il lungo raggio si inclinava sul letto, la roccia si schiantò. Un altro lembo dello scialle si sciolse, uscillò, pendulo. Durante le brevi notti estive e lunghi giorni canicolari, quando le vuote stanze parevano e cheggiare i murmuri campestri e risuonare del ronzio dei mosconi, il lungo drappo ondulava suavemente, svolazzava a caso. Mentre il sole rigava, striava le stanze, le colmava di pulviscolo biondo, per modo che la signora McNabb, quando entrava boccheggiando per spolverare e scopare, sembrava un pesce dei tropici nadante attraverso acque zebrate dal sole. Ma nonostante tanta sonnolenza, tanto sopore, con l'avanzare dell'estate cominciarono a rumoreggiare sinistri rombi, simili a ritimici calpi di partello attutiti dal feltro, e loro urti iterati allentarono ognor più lo chalet e inclinarono le tazze del tè. Ad ora ad ora sudiva nella credenza un tintinio di vetri, come se anche i bicchieri intruvi chiusi si commuovessero all'alto grido d'angoscia di una voce titanica. Poi ricadde il silenzio. E di notte in notte, e a volte anche in pieno giorno, quando le rose più sfologoravano e il sole batteva sulla facciata, sembrava risuonare nel silenzio, nell'indifferenza, nell'integrità circostante, un toffo come di cosa che cade. Un oppice esplose. Ne furono uccisi in Francia venti o trenta giovani, fra i quali Andrea Reims, la cui morte, grazie al cielo, fu istantanea. In quel tempo coloro che erano scesi a passeggiare su Lido per chiedere al mare e al cielo un messaggio, una rivelazione. Dovettero esaminare, fra i pegni consueti della bontà divina, il sole sul mare, il pallore dell'alba, la luna crescente, le paranze nel plenilulio, i bambini battaglianti con proiettili ed erba. Qualcosa di discorde dalla giocondità, dalla serenità della natura. Per esempio il tacito affiorare di una nave cinerea, apparsa e scomparsa. E' il formarsi di una macchia violacea sulla blanda superficie del mare, come per un invisibile pallular di sangue giù nel fondo. Queste dissonanze, in una scena calcolata a stimolare meditazioni sublimi, adducenti a conclusioni consolatrici, fermava il passo di chi andava di porto sul Lido. Era difficile non tenerne conto, abolirne il significato nel paesaggio circostante, continuare, passeggiando lungo la riva ad ammirare nella bellezza esterna un'immagine della bellezza interiore. La natura correggeva forse ciò che l'uomo aveva prodotto, o compiva ciò che era da lui incominciato. Con placidità immutabile, ella contemplava le miserie dell'uomo, condonava le sue debolezze, permetteva le sue torture. Dunque il sogno di solidarietà, di integrazione, la speranza di trovare nella solitudine del Lido una spiegazione, erano soltanto riflessi di uno specchio, o lo specchio medesimo era soltanto la superficie in vetriatura che si forma nella rassegnazione e sotto cui dormono i più nobili poteri dello spirito. In tale inquietudine, in tale desolazione, diveniva impossibile passeggiare sul Lido. Era triste allontanarsene, perché la bellezza non manca mai dalle tarti né di blandizie, ma la contemplazione diveniva intollerabile. Lo specchio era infranto. Il signor Carmichel pubblicò in quella primavera un volume di liriche, il quale lo ottenne un impreveduto favore. Si disse che la guerra aveva ridestato il gusto della poesia. Capitolo settimo. Di notte in notte, l'estate e l'inverno, il tormento delle tempeste e la placidità del bel tempo tennero corte senza inconvenienti. Se qualcuno avesse potuto porsi in ascolto dai piani superiori della casa vuota, avrebbe udito soltanto un caotico rombo solucato dai rulli e delle scosse del tuono. Perché i venti e i marosi ruzzavano come masse morfe di leviatani senza alcun lume di ragione nella testa. Si montavano addosso, cozzavano, s'azzuffavano in giochi stolti, al buio o al sole, durante un informe accumularsi di giorni e di notti, di mesi e di anni. Sì, che al fine il mondo intero parve in baruffo e subbuglio, per disordine brutto di inconvenienti cupidigie. Durante la primavera le urne del giardino, verdeggianti a caso di pianticelle seminate dal vento, erano gaie come sempre. Fiorivano violette e narcisi. Sì, tuttavia la quiete splendente del giorno era strana quanto il caotico scompiglio della notte. Alberi e fiori voltati in qua, voltati in su, ma senza vedere, privi di sguardo, perciò orribili. Capitolo ottavo Persuosa di non far nulla di male, correva voce che i padroni non volessero più tornare e forse in novembre la casa sarebbe andata in vendita, la signora McNabb si chinò a raccogliere un mazzo di fiori per portarseli a casa. Lo posò sulla tavola mentre spolverava. I fiori le piacevano. Era un peccato che nessuno li godesse. Se davvero la casa doveva andare in vendita, avrebbe avuto bisogno di riparazioni e di certo ne avrebbe avuto bisogno. Non vi aveva abitato nessuno per tutti quegli anni. La muffa aveva cominciato a imporrire i libri e le altre cose. Perché un po' per le angustie della guerra, un po' per la mancanza di braccia, la casa era stata negletta. E ormai una persona non sarebbe bastata più per rimetterla in ordine. La signora McNabb era troppo vecchia e soffriva di dolori alle gambe. Tutti quei libri avevano bisogno d'essere stessi sul prato al sole. Le pareti dell'ingresso si scalcinavano, la grondaia era turata sopra la finestra dello studio e la pioggia gemmeva dentro. Il tappeto era tutto indignato. Ma i padroni avrebbero dovuto andare da sé a vedere o mandare qualcuno. Negli armadi c'erano ancora dei vestiti e ne erano rimasti in tutte le camere. Che ne doveva fare la signora McNabb? C'erano entrate le darme nella roba della signora Reims, povera signora. Ormai non aveva più bisogno di quei vestiti. Il paese dicevano che era morta anni addietro. C'era il vecchio mantello grigio che si metteva per scendere in giardino a coltivare i fiori. La signora McNabb lo tastò e le parve di rivedere la padrona di casa come l'aveva veduta tante volte in passato, andando a riportare il bucato alla villa, che ina sui fiori del giardino. Le parve di rivederla con quel mantello grigio e uno dei suoi bambini accanto. C'erano rimasti i suoi stivaletti, le sue scarpe, una spazzola e uno spazzolino sulla pettiniera, come se la signora se ne fosse andata contando di tornare il giorno dopo. La famiglia una volta aveva avuto l'intenzione di tornare, ma poi non aveva fatto nulla, un po' per la guerra, un po' perché viaggiare era diventato difficile. Non era più venuto nessuno in tutti quegli anni. Si era limitati a mandare il mensile alla casiera, ma non avevano scritto mai, non erano mai venuti e credevano di trovare tutto a posto come prima, oh santo cielo. Ecco, i cassetti erano pieni di roba, fagioletti, pezzi di nastro. Sì, le pareva di rivederla la signora Rems, come l'aveva vista tante volte andando a riportare il bugato. Buonasera signora McNub, le diceva. Era molto affabile, tutte le figlie della vecchia McNub le volevano bene. Ma santo Dio, erano cambiate tante cose dall'ora in poi. Tante famiglie avevano perduto le persone più care e così era morta la signora e il signorino Andrea era caduto in guerra e anche la signorina Brù era morta, dicevano, al primo bambino. D'altronde tutti avevano perso qualcuno in quegli anni. I prezzi erano saliti vergognosamente e non accennavano ribassare. Pareva di rivederla con quel mantello grigio. Buonasera signora McNub, diceva. E avvisava la cuoca di mettere da parte per la vecchia un piatto di riso con latte. Ci pensava che quella poverina ne avrebbe avuto bisogno dopo aver fatto tanta strada venendo a piedi dalla città col suo panierone. Alla signora McNub pareva proprio di rivederla, china sui fiori. Come si chiamava la cuoca? Mildred? Marianna? Qualcosa di simile. Una diavola come tutte le donne di capello rosso. Quanto avevano riso insieme. La vecchia era sempre ben accolta e cucina, aveva sempre qualche barzelletta da raccontare. Il mondo allora andava meglio. La signora McNub sospirò, poi dentennò il capo. Quella era la stanza dei bambini. Su muri si erano formate delle macchie d'umido. L'intonaco si staccava. Che idea aver appeso lì il teschio di un animale. Anche quello era muffito. E quanti topi nelle soffitte. Pioveva dentro. Ma i padroni non mandavano mai a vedere. Non venivano mai. Certe serature erano cascate e gli usci sbattevano. E la signora McNub faceva impressione trovarsi lì sull'imbrunire. Era troppo per una sola donna. Troppo. Le giunture le scricciolavano. Sospirava. Sbatte la porta. Girò la chiave nella serratura e lasciò la casa chiusa. Capitolo nono. La casa fu abbandonata. Diserta. Fu abbandonata come si abbandonano a conchiglia sulle dune. A colmarsi di sterile sale. Il luogo della vita perduta. Una lunga notte sembrò impossessarsene. Gli aliti volubili. I soffi vischiosi che rodevano e frugavano dappertutto sembrarono trionfare. Le casserole si arrugginirono e le stuoie si consunsero. I rospi si introdussero nell'interno. Indolente. Indifferente. Il pendulo scialle continuò ad ondolare. Un cardo si insinuò fra le mattonelle della dispensa. Le rondini fecero il nido in salotto. I pavimenti si coprirono di strame. L'intonaco si distaccò a palate. Le travi rimasero nudo. I topi portarono via roba da rodere dietro gli assiti. Farfalle madreperlacee, rotto il bozzolo, s'ammazzarono sbattendo contro i vetri delle finestre. I papaveri si disseminavano fra le dalie. Il prato sventolò alti ciuffi d'erba. Carciofi gigantesche torteggiaravano fra le rose. Un garofano frangiato sbocciò fra i cavoli. E durante le notti d'inverno, invece del tocco lieve di una pianticella contro la finestra, risuono un rullio di robusti alberi e di rovi, che d'estate inontavano la stanza di verde. Qual forse poteva ormai porre l'ostacolo alla fertilità indifferente della natura? Forse le immagini di una signora, di un bambino, di una scodella di riso con latte sopravvissute nella memoria della vecchia McNabb. Esse avevano vacillato sulle pareti per poi svanire come chiazze di sole. La vecchia aveva chiuso il portone a chiave e se n'era andata. Non era lavoro per una donna sola, continuava a dire. I padroni non avevano mandato nessuno a vedere, non avevano mai scritto. Su nei cassetti c'era roba che intignava. Era un peccato. Tutta la villa andava a malora. Il fascio di luce del faro entrava per un momento, dava un'occhiata improvvisa al letto, alle pareti. Nel buio invernale guardava equanime, il cardo e la rondine, il topo e lo strame. Nessuno sorvegliava, nessuno poneva divieti. Il vento soffiava a suo agio. Il papavero era libero di crescere ovunque e il garofano ad associarsi al cavolo. La rondine poteva fare il nido in salonto, il cardo sconnettere i mattoni, e la far farla meriggiare sul percalle sbiadito della poltrona. I rottami di cristallo e di porcellama restavano sul prato per disparare sotto l'intrigo dell'erba e delle bacche selvatiche. Giunse il momento perplesso in cui trema l'alba e cessa la notte, in cui una piuma basta far traboccare la bilancia. Una piuma e la casa sarebbe sprofondata, precipitata a capofitto in un abuisso di tenebra. Nelle stanze rovina avrebbero sostato i gitanti per farvi bollire i loro bricchi, gli amanti per giacervi di nascosto sulle assi nude, i pastori per mettervi in serbo la refezione fra i mattoni e il vagabondo per dormirvi raggomitolato nel cappotto durante le notti d'inverno. Poi sarebbe caduto il tetto, i rovi e le cicute avrebbero cancellato sentieri, scalini, finestre. Sarebbero cresciute con vigore ineguale, ma indefesso sul cumulo, per modo che solo la presenza di una pianta di tritoma fra le ortiche o di uno coccio di porcellana fra la cicuta avrebbero potuto segnalare al viandante smarrito in quei paraggi le tracce di una scomparsa abitazione umana. Se la piuma fosse caduta a far traboccare la bilancia, tutta la casa sarebbe sprofondata nel sabione dell'oblio. Ma vi sono forse attive, non troppo consapevoli, dallo sguardo sfuggente, dall'andatura sbilenca, operanti senza riti maestosi, né solenni salmodie. La signora McNabb ansimava. Alla signora Bast sgricchiolavano le giunture. Erano vecchie tutte e due, coi movimenti inceppati, coi dolori alle gambe. Arrivarono un bel giorno con secchielli e scope. Si misero al lavoro. Tutto a un tratto. «Metta in ordine la casa per piacere, signora McNabb», aveva scritto una delle signorine, «faccia fer questo, faccia fer quello», così in tutta fretta. I padroni contavano di venire in estate. Avevano avvisata l'ultimo momento. Credevano di trovare la casa come l'avevano lasciata. Lentamente, faticosamente, con secchielli e scope, nettando, lavorando, la signora McNabb e la signora Bast restarono la codecomposizione e l'imporritura. Salvarono dalla parute del tempo che stava per tutto allagare. Qua una cattinella, là una credenza. In una mattinata estrassero dall'oblio tutti i romanzi di Waterloo e un servizio da te. Nel seguente pomeriggio riportarono alla luce del sole e all'aria aperta una paricedere d'ottone, un fornimento d'acciaio per caminetto. Giorgio, il figlio della signora Bast, chiappò i topi e tagliò l'erba. Furono chiamati i muratori e mentre le due donne, curvandosi e rialzandosi, sospirando, cantando, ora sprimacciavano ai piani di sopra, ora sbattevano giù nelle cantine, sembrò per luogo un rinascimento ruggioso e travaglioso, accompagnato da cicolio di cardini, da stredore di chiavistelli, da donfi e sbattimenti da fissi imporriti. Quanto lavoro! esclamavano la signora McNabb e la signora Bast. All'ora di mezzogiorno interrotto il lavoro. Esse prendevano il tè, a volte in camera, a volte nello studio, con la faccia fuliginosa e le vecchie mani ingranchite dall'uso della scopa. Abbiosciate sulle sedie, contemplavano, in quella tregua, quando la loro stupenda vittoria sui rubinetti e sulle tinozze, quando il loro più arduo e parziale trionfo sulle lunghe file di libri, già neri come corvi, ora acchiazzati di bianco. E quando la signora McNabb, cominciava a sentirsi dentro il tepore del tè, il cannocchiale le si adattava di un bel nuovo all'orbita, facendole rivedere in un cerchio di luce il vecchio signore magro, come un rastrello, che dondolava il capo parlando fra sé, su e giù per il prato, mentre lei arrivava con la cesta del bucato. Il vecchio signore non le badava mai. Certi dicevano che era morto, certi dicevano che era morta sua moglie. A che credere? La signora McNabb non ne sapeva nulla di sicuro, ma il signorino non era morto, non era proprio certa. Aveva visto il nome sui giornali. E poi c'era la cuoca, Mildred, Marianna, un nome così. Una donna rossa di capelli, risentita come tutte le persone della sua specie, ma anche di buon cuore a saperla prendere. Quanti avevano riso insieme. La rossa teneva sempre in serbo per Maggie una scodella di minestra. Anche qualche fetta di prosciutto si avanzava. Si campava bene a quei tempi, non mancava niente. C'era sempre in movimento, gente alla villa, perfino venti persone a volte, e piatti da lavare fino alle ore piccole. La signora Bass, che non aveva mai visto i padroni di casa, domandava, posando la tazzina, che idea fosse stata quella da appendere un teschio al muro. Di certo il teschio di una bestia ammazzata fuori via. Forse, rispondeva la signora Manà, continuando ad abbondare con la memoria. I padroni avevano amici in oriente. Alla villa c'erano a volte tanti signori, signore vestite da sera. Una volta dallo spiraglio dell'uscio, lei aveva veduto un pranzo di gala. Una ventina di donne, tutte ingiogliellate, e lei pregata di trattenersi per aiutare all'acquaio fin dopo la mezzanotte. Ah, diceva la signora Bass, i padroni avrebbero trovato un gran mutamento e si affacciava alla finestra per guardare suo figlio Giorgio che falciava l'erba. I padroni avrebbero potuto anche domandare che era successo. Prima il vecchio Kennedy aveva incaricato della sorveglianza, ma lui non era stato più bene della gamba dopo quella caduta dal carro e nessuno aveva più badato a niente per quasi un anno. dopo l'inconvenza era passata a David McDonnell e forse avevano mandato dei semi, ma chissà mai se qualcuno li aveva messi sulla terra. I padroni avrebbero trovato un gran mutamento. La signora Bass guardava il figlio intento alla falciatura, era un gran lavoratore lui, e di pochi discorsi. Su, su, bisogna finire di ripulire le credenze. E le due vecchie si issavano sui piedi. Finalmente dopo giorni di fatica all'interno, di falciature, di zappature all'esterno, vennero scossi dalle finestre i cenci della polvere. Chiuse le finestre, girate le chiavi nelle toppe per tutta la casa. In ultimo più chiusa con un'usciata alla porta d'ingresso. La pulizia era finita. Risorse allora quell'indistinta melodia che già sembrava annegare nei frusci della spolveratura, della lustratura, della falciatura. Musica intermittente, indistinta. Latrati, velati, discordi, intermessi. Tuttavia in certo modo affini. Il ronzio di un insetto, il fremito dell'erba recisa, distinti eppure chissà come connessi. Il frivile di un coleottero, il cigolio di una ruota, sommesso l'uno, l'altro penetrante, eppure misteriosamente affini. Suoni che l'orecchio tenta di riconnettere ed è sempre sul punto ad armonizzare, ma che rimangono sempre un po' vaghi i discordi, finché sulla sera finiscono uno dopo l'altro e svanita la loro armonia cade il silenzio. Sull'imbrunire i contorni si smussarono e, pari a nebbia vaporosa, la quiete si levò e si diffuse mentre il vento cessava. Tutto si rilassò per dormire nel buio, rischierato qua e là da un verdeggiar di fogliame o da un pallore di bianchi petali presso la finestra. Lili fece portare la sua veligia alla villa di sera tardi, in settembre. Con lo stesso treno arrivò il signor Carmichelle. Capitolo decimo Dunque la pace era tornata davvero. Il mare alitava messaggi di pace. Prometteva alla sponda di non più turbare i sogni, di cullarla anzi per un più quieto riposo, di confermare quanto di Savio, di Pio e Dormenti sognassero. Non altro poteva significare il murmure della battima, mentre Lili le porgeva orecchio col capo sul guanciale nella camera linda e silente. Dalla finestra aperta entrava il bisbiglio della vaga natura, sommesso, quasi indistinto ma di significato ben chiaro. Faceva appello ai dormienti. Di ben nuovo la villa era piena di ospiti, fra gli altri la signora Begwild e anche il signor Carmichelle. Le sortava ad uscire sulla spiaggia o almeno ad alzarla persiana per guardare fuori. Avrebbero visto scendere la notte vestita di viola con un diadema e uno scettro giornato, con occhi in cui perfino un bambino avrebbe potuto affisarsi. E sentendo riluttare i dormienti, Lili, spostata dal viaggio, si era addormentata subito, ma il signor Carmichelle si era messo a leggere all'uma di candela, sentendosi rispondere che no, che lo splendore della notte era illusorio, la guazza insalubre e che meglio conveniva dormire. Allora, blanda, senza lagni, la piccola voce proseguiva il suo canto. Le onde si frangevano pienamente. Lili le udiva nel sonno. Suavemente pioveva il lume degli astri e l'ane sentiva infuse le palpebre. il signor Carmichelle, chiudendo il libro per addormentarsi, pensò che tutto, dopo tanti anni, pareva immutato. In vero poteva riprendere la voce. Intanto le cortine del buio si rivolgevano intorno alla casa, intorno alla signora Beg White, al signor Carmichelle, a Lili, addensando parecchi strati di tenebra sulle loro ciglia. Perché non accettare il presente? Non contentarsene? Non consentirvi? Non rassegnarsi? Il sospiro dei mari blandì col suo ritmo le onde. La notte ravvolse le isole in un sonno che durò indisturbato, finché essendosi messi a cantare gli uccelli, e il mattino, avendo intessuto le tenue loro voci al proprio balbore, avendo cicolato un carro e un cane, avendo abbaiato chissà dove, il sole dischiuse le sue cortine e strappò i veli dalle tenebre dei dorminti. Allora Lili, muovendosi nel sonno, s'aggrappò i lenzuoli come chi, cadendo da un precipizio s'aggrappi alla zolla del ciglione, poi spalancò gli occhi. Eccomi qui un'altra volta, pensò, balzando a sedere sul letto, ridesta del tutto.